Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Anche oggi dedichiamo l'apertura di questo appuntamento ai quartieri, in modo particolare alla zona di Via Piave, dove da mesi è attesa l'inaugurazione del nuovo mercato coperto. Questa mattina abbiamo notato degli operai al lavoro per rimuovere le vecchie coperture. Barbara Albero ha cercato di capire cosa sta succedendo. In Via Piave si tolgono le tende, mai riferimento più appropriato per l'area mercatale del centro della città, che da mesi ormai attende la cerimonia inaugurale del ristrutturato e riqualificato spazio del mercato rionale del centro della città. Come anticipato nei giorni scorsi ai nostri microfoni dall'assessore al commercio Dario Loffredo, la data dell'inaugurazione è stata posticipata a questo mese di dicembre, semplicemente perché è stato verificato che la copertura dell'area destinata al settore agroalimentare è risultata troppo corta per riparare gli ambulanti e i clienti dalla pioggia. E così questa mattina operai al lavoro per smontare le tende apposte al perimetro della copertura generale, che in modo mobile consentivano un allungo. Non essendo però sufficienti e funzionali, l'amministrazione comunale di Salerno ne ha disposto una modifica. È stato infatti progettato un nuovo sistema, sempre con tende mobili, che ripareranno maggiormente da vento e pioggia gli operatori mercatali. Si tratta di un accorgimento funzionale, ha dichiarato l'assessore Loffredo, non avrebbe avuto senso inaugurare senza rendere prima ottimale lo spazio atteso e richiesto da anni dagli ambulanti che ogni giorno danno vita al mercato di Via Piave, punto di riferimento del quartiere Carmine e della città di Salerno. Completata la rimozione delle tende, nei prossimi giorni si provvederà all'allestimento delle nuove. Presumibilmente potrebbe essere rispettata la data di dicembre per l'apertura, l'auspicio di poter svolgere il mercato per le spese natalizie. Torniamo anche sulla questione di Piazza Alario. Cresce il fronte dei consiglieri comunali che si oppongono al progetto di restyling proposto dall'amministrazione comunale per il quale ieri è iniziata la recinzione del cantiere che ha suscitato la reazione del comitato. Il giorno dopo la protesta del comitato Salviamo Piazza Alario si allarga il fronte dei consiglieri comunali di Salerno che si schierano dalla parte dei cittadini che chiedono di non sacrificare i platani secolari che si trovano nella piazza per far fronte a parcheggi sotterranei ed un parco giochi per bimbi. Non è bastato al comune di Salerno modificare il progetto, provare a trovare un'intesa con i cittadini cambiando la pavimentazione che in un primo momento era in gomma ed anche abbassando la recinzione. Ieri all'avvio del cantiere insieme alle recinzioni per delimitare l'intervento sono arrivate le catene dei rappresentanti del comitato per fermare le ruspe. Tra i primi a schierarsi dalla parte dei cittadini il consigliere comunale di Italia Viva Donato Pessolano che ammette il dietro front sul restyling Tempo fa ho espresso il mio parere favorevole alla ristrutturazione scrive Pessolano, credevo erroneamente si trattasse di un restyling giusto di un piccolo parco giochi di quartiere senza stravolgimenti radicali Solo oggi scopro che comporterà il lavoro un deturpamento di un pezzo di storia di Salerno Ad unirsi al coro anche il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano a Piazza Lario si recinta e si apre il cantiere ed i cittadini si incatenano in città manca ogni forma di partecipazione, di dibattito, di confronto con i rappresentanti della città Un parco giochi per bambini va fatto ovunque tranne che a Piazza Lario ha commentato il consigliere comunale della Lega Dante Santoro Parliamo di una piazza storica secolare con un alto pregio che non può essere sventrata per mettere le giostrine L'esigenza di destinare un'area gioca per bambini nel centro cittadino l'abbiamo segnalata da tempo ma andava fatta ovunque tranne che lì E dopo l'esposto presentato ieri dall'avvocato Resti Agosto per chiedere in autotutela il sequestro dell'aria ad annunciare azioni legali oggi è stato anche l'avvocato e consigliere comunale Antonio Cammarota Sì, è stato fatto anche per Corso Vittorio Emanuele la sospensione dei lavori in autotutela è una pratica che il Comune adotta e credo che sia opportuno in questo caso anche perché francamente non è condivisibile la scelta dei lavori che cancella un luogo della tradizione e una memoria antica della città di Salerno quella piazza, quel belvedere, quegli alberi secolari fanno parte della cartolina della città antica quella per intenderci della fontanella con i mosaici se cancelliamo la nostra tradizione, se cancelliamo la nostra storia, cancelliamo il nostro futuro questa fretta non ha un buon sapore noi faremo un consiglio comunale a breve credo sia opportuno tornare in consiglio comunale sulla vicenda far partecipare i cittadini della zona alle commissioni preparatorie ai lavori del consiglio comunale perché l'urbanistica o è partecipata o non è e chi va contro la volontà del popolo è destinato alla sconfitta Lei ritiene, così come sostiene il comitato, che sia stato cambiato il progetto in itinere rispetto a quando era stato discusso proprio con gli stessi residenti della zona? Questa è una speciosità e una specificità che avrà le sue sedi competenti per verificare naturalmente anche la commissione trasparenza è aperta a un ragionamento di verifica e di controllo che compete il problema credo che però sia un po' più ampio affonda cioè nella critica all'arroganza del potere senza cultura di questa città che cancella il passato, tradisce il presente negando la partecipazione popolare e ignora il futuro sradicando nelle radici Mentre è abbastanza ovvia la presa di posizione dei consiglieri che siedono tra i banchi dell'opposizione c'è anche nel fronte della maggioranza chi si smarca dalla scelta del progetto di restyling lo hanno fatto con una lettera i tre esponenti del partito socialista Veronica Mondanì, Massimiliano Natella e Paolo Ottobrino che hanno scritto una lettera al sindaco di Salerno definendo assurdo il fatto che si sia scatenata una protesta sulla mancata condivisione del progetto ed hanno invitato, parliamo ovviamente sempre di Piazzalario, il primo cittadino a trovare un'intesa con il comitato Un'intesa invece è stata trovata, almeno in parte, tra i comitati che rappresentano i cittadini che si battono per i dilitti del malato e che ieri hanno avuto un confronto con i vertici dell'ASL di Salerno Verrà potenziato il poliambulatorio di Passena mentre per quanto riguarda l'USCA ci sono divergenze con i vertici dell'ASL Sarà potenziato il poliambulatorio di Passena per far fronte all'interruzione dei servizi ambulatoriali post-emergenza Covid e uno degli esiti dell'incontro tra ASL Salerno e i cittadini della cittadinanza attiva Tribunale dei diritti del malato e comitato Salerno in piazza che ieri hanno tenuto di incontrare nuovamente i vertici dell'ASL Salerno il direttore amministrativo e quello sanitario con il quale avevano avuto un primo confronto lo scorso 9 novembre da questi incontri si è già ottenuto lo spostamento dell'orario di funzionamento dell'ambulatorio che per le analisi del sangue sarà prolungato fino alle 12 lo stesso poliambulatorio è stato dotato di tutti gli ecografi più moderni per espletare tutti i servizi ecografici ma non sarà possibile installare l'attacco come era stato richiesto dai cittadini un medico neuroradiologo presente all'incontro ha infatti riferito che per tamponare i blocchi dei servizi ospedalieri e ambulatoriali è attualmente possibile effettuare TAC per i pazienti covid presso gli ospedali mentre per tutti i pazienti no covid è a disposizione l'ospedale di Nocera l'installazione di un servizio TAC nel poliambulatorio richiederebbe personale e risorse che non sono attualmente disponibili gli stessi vertici ASLA hanno ammesso tra l'altro l'assenza in alcune usca inclusa quella di Salerno di un ecografo portatile con cui gli operatori sanitari dovrebbero effettuare l'ecografia toracica in casa dei pazienti per verificare lo stato dei polmoni è stato inoltre sottolineato che pur avendo tutte le apparecchiature occorrerebbe poi formare il personale divergenze invece sono state riscontrate in merito alla quantità di usca presenti per il direttore primanio e le 19 esistenti sono sufficienti non è così per i cittadini per i quali non è rispettata la presenza di un'unità ogni 50.000 abitanti insomma la riunione si è conclusa con una parziale soddisfazione delle richieste ma anche l'annuncio per il prossimo 5 dicembre di un presidio presso l'ospedale Ruggi di Salerno per esprimere vicinanza alle condizioni precarie in cui sta lavorando una grande fetta del personale ospedaliero e sanitario in generale Parliamo adesso invece delle perplessità e dei dubbi che animano il settore della ristorazione in un documento consegnato al prefetto gli aspetti che l'Associazione dei Commercianti di Salerno ritiene strategico per risolvere l'emergenza economica legata al Covid Il Consiglio dei Ministri con il decreto Ristori Quater aggiunge altri 8 miliardi alle compensazioni per le attività chiuse per contenere la seconda ondata dell'epidemia cambia il calendario del fisco anche per la rottamazione delle cartelle si attivano altre procedure per dilazionare i pagamenti per comprovate difficoltà economiche si dispongono i ristori per tutte le attività che non potranno aprire mentre si guarda la prossima data che potrebbe cambiare il colore e le condizioni della regione Campania l'Associazione Commercianti per Salerno consegna sul tavolo del prefetto di Salerno una lista di richieste per aiutare il settore della ristorazione messo in ginocchio dall'emergenza sanitaria ed economica l'iniziativa in contemporanea a livello nazionale anche con altre associazioni punta a fare in modo che giungano tutte contemporaneamente al ministero competente Sì, noi di Comune con altre associazioni di altre regioni con cui siamo in contatto abbiamo stilato dei punti generici che sostanzialmente sono sempre quelli perché i punti fondamentali sono quelli non sono stati soddisfatti quindi continuano ad essere quelli quindi i ristori, gli affitti e tutte queste cose ovviamente ci sono delle specifiche come possono essere sostanzialmente delle attività completamente escluse dal fondo perduto quindi alcune attività sono state completamente escluse quindi includere delle attività che non sono state incluse le utenze, vogliamo parlare delle utenze le utenze continuano ad arrivare bollette e continuano ad arrivare bollette da pagare che noi dovremo pagare le cartelle esattoriali del 2020 abbiamo chiesto in questo documento il condono tombale un saldo e straccio per gli anni progressi perché ovviamente non lavoreremo ma secondo la vostra opinione ripartire anche, non so, fra sei mesi a pieno regime non si sono accumulate delle spese, dei costi che in questo momento le attività non sono riuscite a sostenere visto il volume di lavoro ma è evidente noi adesso siamo qui e vediamo delle persone in giro ma il pomeriggio dopo le quattro ovviamente rientrando noi nella zona rossa anche se noi siamo aperti per l'asporto o per il delivery il lavoro molte attività hanno deciso di non aprire perché non è conveniente stare aperti a queste condizioni ora si guarda con attenzione al Natale si spera che possa cambiare un attimino anche la curva dell'epidemia si spera che si possano riprendere i consumi credete in tutto questo? vediamo per un'attività più legata a noi della ristorazione è molto difficile perché tenga presente ovviamente si fanno sempre delle ipotesi finché non abbiamo la certezza non possiamo dirlo ma un'apertura per 15 giorni per poi riaprire quando stare chiusi durante le vacanze parliamoci chiaro si fanno delle spese si affrontano delle spese per riaprire l'attività chi l'ha tenuta chiusa o per incrementare il magazzino e poi chiudiamo ecco è la merce che fine fa la merce che rimane nei frigoriferi quindi questo è un dubbio da chiarire vedremo che cosa si abiliranno vedremo la regione se ci imporrà limitazioni diverse o lascerà libero o intatto il decreto governativo anche questo è da considerare ed intanto proprio per favorire una categoria di operatori quelli che hanno le proprie attività sulla costa di Salerno c'è una notizia importante una delibera del Consiglio Comunale della Giunta Comunale di Salerno che ha deciso di destagionalizzare dando così la possibilità di restare aperti tutto l'anno senza più vincoli permettendo una fruizione del mare e della spiaggia durante tutto l'anno la notizia segue l'incontro di cui avevamo dato informazione proprio nel Tg di ieri tra l'assessore De Maio e il distretto Costa del Sole parliamo anche di quelle che sono le nuove potenzialità del lungomare di Salerno grazie all'intervento di ripascimento che sta allungando la spiaggia mentre invece a proposito di esercizi commerciali e di controlli c'è una nuova ondata annunciata dal prefetto che riguarderà in questo caso in maniera più precisa le strutture sanitarie dove si stanno registrando tantissimi contagi anche allo scopo ha sottolineato il prefetto di Salerno di capire se serve una mano su alcuni fronti per poter contenere il coronavirus Strutture residenziali per anziani cantieri edili e aziende operanti in diversi settori in provincia di Salerno sono queste le aree nelle quali si concentrerà l'ulteriore attività di monitoraggio e controllo voluta dalla prefettura di Salerno e finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme anti-covid sin dalle prime fasi della gestione il prefetto Francesco Russo ha voluto avviare una serie di controlli l'evoluzione della situazione epidemiologica e di ripetersi di contagi che riguardano in modo particolare le strutture per anziani hanno oggi indotto il prefetto a convocare una nuova riunione e rimodulare i dispositivi di servizi in atto con il supporto delle forze di polizia in particolare come dicevamo saranno intensificati i controlli già in atto presso le strutture sanitarie con il duplice scopo di supportare le strutture in questo delicato momento attraverso ogni azione possibile e mirata al rispetto dei protocolli voluti dal governo inoltre nella consapevolezza del difficile momento che stanno vivendo le aziende e gli operatori economici che hanno già dimostrato ha detto il prefetto in passato un grande senso di responsabilità continueranno i servizi di prevenzione e vigilanza a garanzia del rispetto delle norme di distanziamento e dell'uso dei dispositivi di protezione anche sui posti di lavoro per venire incontro alle difficoltà delle aziende proprio oggi la giunta della camera di commercio di salerno considerato anche il successo del bando precedente approvato già ad aprile 2020 ha deciso di integrare ulteriormente il fondo per aiutare le imprese nel pagamento degli interessi e degli oneri accessori sui finanziamenti l'aggiunta camerale ha dunque stanziato ulteriori 270 mila euro fissando al 31 dicembre il termine per la presentazione delle domande intanto a proposito di controlli in una nota la questura di salerno fa un bilancio di quelli che sono stati i controlli effettuati dalle forze dell'ordine in 15 giorni di zona rossa in provincia di salerno vi leggo giusto qualche numero quasi 19 mila le persone controllate 475 sono state sanzionate perché non usavano la mascherina 26 titolari di esercizi commerciali sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti covid ma torniamo in prefettura oggi sono scaduti 20 giorni dalle dimissioni di massimo cariello sindaco di eboli ormai ex sindaco il prefetto russo ha nominato chi guiderà come commissario prefettizio il centro della piana del sele sarà Antonio De Jesu già questore di salerno a guidare il comune di eboli dopo la sospensione del consiglio comunale la nomina di un commissario prefettizio data la rilevanza del comune sia per importanza sul territorio provinciale che per grandezza demografica oltre che per la rilevanza delle questioni da affrontare il prefetto di salerno Francesco Russo ha scelto un altro prefetto per sostituire sulla poltrona di primo cittadino il dimissionario Massimo Cariello dopo il periodo di transizione affidato al vice sindaco Lucas Groia Cariello si è dimesso 20 giorni fa poco dopo la rielezione per l'inchiesta che lo ha costretto ai domiciliari con l'accusa di aver pilotato concorsi pubblici ma ci sarebbero altri aspetti ancora da chiarire nella gestione del comune di eboli Napoletano in pensione da pochi giorni dopo l'incarico di vice capo vicario della polizia già anche questore di Napoli Milano Bari oltre che a Salerno dove arrivò nel 2010 De Jesu conosce bene Eboli che dovrà guidare fino alle elezioni del maggio 2021 covid permettendo Passiamo alla cronaca a Nocera Inferiore la Guardia di Finanza ferma un pluripregiudicato che è sospettato di detenere un traffico di droga i dettagli nel servizio aveva trasformato la sua automobile in un negozio per vendere la cocaina ai suoi clienti e poco contava che si era in lockdown a scoprire il traffico di droga sono stati finanzieri di Nocera Inferiore che hanno fermato un pluripregiudicato di 58 anni disponendo il divieto di dimora in provincia di Salerno tutto era iniziato nello scorso mese di giugno quando gli uomini della compagnia della Guardia di Finanza durante una perquisizione domiciliare l'uomo era agli arresti domiciliari hanno trovato diverse dosi di cocaina confezionate e pronte per la vendita insieme alla tipica strumentazione da taglio della polvere bianca e a un centinaio di euro in contanti presumibile provento dello spaccio per ricostruire la rete di contatti le fiamme gialle hanno quindi ampliato le attività investigative attraverso l'esame dei traffici telefonici alcuni impedinamenti e servizi particolari i militari sono risaliti ai principali clienti abituali convocandoli successivamente in caserma per ascoltarli le dichiarazioni rese hanno confermato la sistematicità con cui ormai da mesi gli assuntori tutti provenienti dall'agro noncerino sarnese si rifornivano dallo spacciatore con cui prendevano accordi diretti per incontrarsi ora a casa di lui ora nel centro città dove lo scambio avveniva direttamente nell'auto dell'indagato per mettere fine a queste condotte il giudice per le indagini preliminari su richiesti della procura della repubblica ha emesso l'ordinanza che ne ha disposto il divieto di dimora in provincia di Salerno il cinquattottenne è ora in attesa del processo in caso di condanna rischia la reclusione fino a quattro anni è una multa che può superare i diecimila euro ed un cittadino originario della Germania ma residente a Sarno è stato trovato in possesso di numerose dosi altri elementi prova dello spaccio per questo motivo gli agenti del commissariato di Sarno lo hanno fermato tra l'altro seguendo una persona che poi risultata proprio assuntore di droga bene come anticipavamo prima della pausa pubblicitaria andiamo a Pestum per parlare di record raggiunti nonostante il periodo di emergenza dal parco archeologico con numeri celebrati dal direttore Gabriel Zuccherichel nonostante un forte calo del 44% nella vendita dei biglietti nell'anno del covid il parco archeologico di Pestum che da quest'anno comprende anche il sito di Velia ha raggiunto un nuovo record con un bilancio annuale che si chiude a 14 milioni di euro entrate ed uscite dunque in forte aumento e in controtendenza rispetto a molti altri siti e musei italiani progetti europei e statali che il parco si è giudicato avanzi di bilancio creatisi negli ultimi anni di forte crescita dei flussi turistici ma anche donazioni e sponsorizzazioni da parte di aziende e cittadini del territorio hanno consentito al parco guidato da Gabriel Zuck Trigel di fare investimenti e affidare servizi per un importo complessivo mai raggiunto in precedenza un lavoro un lavoro di squadra dichiara proprio Zuck Trigel possibile grazie all'impegno e alla professionalità di funzionari ed assistenti che nonostante le condizioni difficili non si sono mai risparmiati rendendomi davvero orgoglioso e felice tra i progetti in cantiere i lavori di restauro e riallestimento nel museo e nell'area archeologica finanziati con fondi europei e statali la riqualificazione dell'ex stabilimento Cirio destinato a diventare un polo culturale con spazi espositivi e molteplici interventi di restauro messa in sicurezza scavo stratigrafico e manutenzione spicca per innovazione il sistema di monitoraggio sismico sul tempio di Nettuno a Pestum ideato insieme al Dipartimento di Ingegneristica dell'Università di Salerno e reso possibile grazie ad una campagna di raccolta fondi sul portale Art Bonus a Velia infine lavori per più di un milione di euro avviati nei primi sei mesi di gestione congiunta con Pestum si punta ora ad un progetto di recupero e accessibilità dell'antica galleria borbonica le previsioni del tempo accendi la cultura con TecnoScuola l'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica iscriviti ai corsi universitari con soli 1500 euro annui e con TecnoScuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno e poi corsi di formazione REC OS RAC operatore per l'infanzia e inoltre scuola per estetista bienio e specializzazione TecnoScuola è a Battipaglia Fisciano e Salerno TecnoScuola.it Previsioni per domani al mattino sulle coste nubi e schiarite con possibili fiovaschi in montagna mute nubi con deboli fiovigili nel pomeriggio sulle coste nubi e schiarite con possibili fiovaschi in montagna nubi e schiarite con possibili fiovaschi Previsioni del tempo fornite da 3B Meteo Insomma Salernitana e Vetta della B restano subiudice ma la squadra continua ad allenarsi al Meri Rosi Castori spera di recuperare almeno Aia dall'infermeria Sabato i Granata ospitano la cittadella lo stadio Arechi la truppa di Castori ha avuto un avvio da record meglio anche delle squadre di Rossi e Cipoviani l'infermeria Granata resta piena Castori spera almeno di recuperare Ramzi Aia per la sfida interna di sabato prossimo alla Rechi contro il cittadella di Venturato tutti gli altri acciaccati rischiano di rimanere ancora fermi ai box Lopez lamenta ancora dolore alla caviglia che lo ha costretto al forfè contro il Cosenza domenica scorsa copia e incolla anche per Frederic Veseli l'albanese ieri ha ripreso un lento programma di ri-atletizzazione con tempi certamente più lunghi rispetto al match in programma sabato prossimo nel Principe degli Stadi è valido come decima giornata del torneo cadetto ieri pomeriggio intanto la Salernitana ha ripreso a lavorare al centro sportivo Mary Rosi inizia oggi il mese del Tour de Force intanto cambia l'orario anche della sfida a Monza si giocherà alle 16 anziché alle 18.30 Castori ha atteso buone nuove dall'infermeria ma potrebbe in estremi se recuperare come detto soltanto Aia che ieri ha svolto lavoro differenziato con Veseli e Antonucci Lopez invece ancora out l'impressione è che l'allenatore Granata non forzerà i rientri alla luce delle buone prestazioni di Bogdan e di Mantovani quest'ultimo sui social ieri ha festeggiato con un eloquente Beck il suo ritorno in campo c'era stata sì la parentesi di Genoa in Coppa Italia però contro la Sampdoria dopo l'ultima presenza in campionato il 9 giugno del 2019 a Venezia nei play-out e soprattutto dopo l'infortunio e l'intervento chirurgico in Finlandia mancherà l'ufficialità dei tre punti sarà tutto congelato per qualche ora ma i tifosi non smettono di sognare e di ripensare alla salernitana di Delio Rossi che alla nona giornata aveva 19 punti quella di Castori in attesa dell'ufficialità ne ha messi in cassaforte già 20 a voler guardare soltanto i numeri nudi e crudi la squadra del tecnico di Tolentino ha fatto meglio di tutte nella secolare storia granata in Serie B dopo 9 giornate di campionato sia di quella di Delio Rossi come detto ma anche quella di Gipoviani entrambe sono le uniche squadre dell'ippocampo che hanno poi brindato alla promozione in massima serie per rimanere in tema tutte le compagini che gli ultimi anni avevano 20 o più punti a questo punto del campionato poi hanno centrato il salto di categoria è successo al Verona di Pepepecchia nel 2016-17 e dal Crotrone di Juric la stagione precedente meglio ancora il Sassuolo di Francesco nel 2012-2013 il Torino di Ventura nel 2011-2012 ed il Siena di Antonio Conte nel 2010-2011 per il momento solo dati e statistiche intendiamoci ma nulla vieta di farci più di un pensierino è tutto termina qui il nostro appuntamento con l'informazione grazie per essere stati con noi arrivederci vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand e clicca su